Prima le idee e lo slogan scelto da Fratelli d'Italia per aprire il cantiere del programma elettorale in vista delle amministrative 2024. All'incontro voluto dal partito di Giorgia Meloni hanno partecipato tanti esponenti del mondo politico locale e tra loro anche Pino Vigiano, consigliere comunale di Bari ed ex capogruppo della Lega che ha scelto Fratelli d'Italia come casa stabile per i prossimi mesi. Mi preme sottolineare il fatto che ho passato quattro anni in totale sintonia con i colleghi della Lega un partito che mi ha concesso l'opportunità di sedere in consiglio comunale mi preme ringraziare l'onorevole Davide Bellomo, il segretario cittadino Pino Monaco e il consiglio regionale Fabio Romito con cui ho avuto sempre un rapporto di rispetto. Mi sentivo dopo quattro anni e mezzo per chiudere il mio ciclo con la Lega senza nessun tipo di polemica e ho deciso convintamente e con entusiasmo di aderire al progetto politico di Fratelli d'Italia ringraziando tramite appunto Marcello Gemmato, norevole Germato con cui mi lega un rapporto di amicizia ventennale grazie a Michele Piccolo, coordinatore provinciale e ho condiviso questo percorso politico condividendone subito le progettualità e i valori di questo partito. Diciamo mi è piaciuto molto l'approccio positivo alla politica che ho potuto maturare in questa consigliatura da parte di Fratelli d'Italia mi ha creato diciamo quell'entusiasmo che ritenevo sopito da tempo un approccio alla politica positivo che mi piace a me è basato sulle idee sul confronto e sull'ascolto dei cittadini, sulla partecipazione e diciamo la giornata di oggi va a suggellare quello che sto dicendo per cui ho condiviso questo approccio positivo alla politica e cercherò di trasmettere con umiltà il mio contributo politico.